sensazionale ascolta ora ascolta la ora carina ragazzi merino ha deciso in contemporanea bellini carina dannata caruccia per diem ce l'ascolti una volta il momento basta poi dai no dannata scusami l'ho affezionato quindi dannata carpe diem bellinina ascolta la ora è sensazionale qua abbiamo tutti gli artisti io direi di iniziare subito con le canzoni di sanremo avrete anche il testo davanti musica di carmine e si inizia incredibilmente con la noia di angela a lavorare ma non passa per il list nome di zecco si pensano che il secondo vediamo tu da colpe non so se è fatta in cosa che ha vinto vero analisa non lo sai se non lo sai non te lo diciamo ha vinto angelina ok quindi vogliamo partire da io ci pensavo si leviamo c'è l'odiata ragazzi noi lo amo lei è bravissimo sentiamo la noia di angelina quanti disegni ho fatto ogni pezzetto era bello è fatta di pezzetti è bravissimo lei ha sembra una di quelle canzone che se le fa se la fai bella live sei una campionessa è bravissima è divertente è divertente sembra divertente e sanrematona sembra fatta per vincere sanremo ma neanche così tanto ma un po' dopo le vibes di occidentali scarma cioè che c'è anche se non ho sentito le altre 29 sembra che abbia voluto cambiare un po le carte in tavola perché di soli sanremate sono e quindi vivimi in questi giorni di sono giocate molto bene l'ha fatta la prima volta con gli archi l'ultima volta a cappella la sanremata posso dirti la mia ha fatto molto meglio mamut quando ho sentito a sanremo ho detto questa bella orecchiabile ma tutte le quando porto soldi bro soldi era rivoluzionaria ma questa è raffinata però sai che secondo me può fare molto meglio ne ha fatte due canzoni raffinate belle bro questa è molto lui è molto però anche a cambiare le canzoni questa è molto ripetitiva secondo me secondo me neanche non tanto l'unica cosa che mi spiace che soldi quando cambiava o in ugli ascia quando cambiava era quando cambiava era molto comunque inerente tutto il tutta la canzone qua sembra che è fatta proprio a spezzettazzi ed era fatta di spezzettazzi anche quella di prima di angela ma era comunque più inerente però a me è piaciuto un sacco in questo tutto gold io direi di ascoltarne tre alla volta e poi mettere metterli nella tier list allora vuoi risolvi di sentire una roba perché l'ho già sentito ciao marco ti si vuole bene bacini voglio ringraziare leonardo isabel mua che mi ha raddato civics tiltoni bruter punene e schizofreina guy ragazzi 244 bambine salvate a tutti ma in cima allora quando dice c'è una linea molto melodica che ho già sentito ho capito ho capito se intendi aspetta allora peccato le parti queste qua quando 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 pallosissime all'inizio ma poi due giri ma che cazzo di merda però poi la canta no certo 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 però quanto diventa figo dopo il quando 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 c'è guarda che figo qua mi nascondo queste cose non le fa prima si si non puoi avere una analisa e scrivere le steline qua mi piace anche se è molto riverberato il ritornello ma ha scritto lei quello bello questa è una classica produzione eh ragazzi ecco la terza è Angelina Mango Angelina Mango io non lo so sensazionale mi è rimasta in qualche modo più questa qua porco dio che quella non mi ricordo più quella di Angelina eh neanch'io neanch'io quella che fa è la cumbe della noia questa è la cumbe della noia questa è Annalisa si è questa è la cumbe della noia è Angelina non al contrario Annalisa l'abbia appena sentito bro no questa questa ah quella a destra è Annalisa ok io Annalisa gli direi bellina che palle brutta che brutto ritornello quanto è facile fare una anzone sulla guerra ma puoi bombardare un ospedale per un pezzo di pane? o per un pezzo di pane eh non lo fa nessuno non è quello il motivo vabbè il petrolio tantissimo autotune tantissimo ho capito che è lo stile ma troppo veramente la più debole sentita si certo la più veramente la più debole che palle di ritornello peccato perché c'è come hai detto tu un bellissimo synth c'è un bellissimo synth l'arpeggiatore di synth sotto è molto figo è molto figo che figo guarda che infine qua la musica il prato è verde più verde più verde comunque quattro canzoni verde verde sempre più verde noia 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 piango 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 basta basta nella moda di pensare scrivete qualcosina e poi parla della guerra da inizio alla fine per favore eeeh perché lui ha fatto ipi me ipi me tu per te ipi me tu per te napoleggioli arabe Gali ha fatto è stato quello del caso del smettete il genocidio si 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 questa era la stonatura che ha fatto a Sanremo si una delle stonature no no e ti vesti a Michael Jackson ma coglione questo era Michael Jackson si perché lui è molto fan si ispira molto a lui la differenza è che Michael si ispira molto a lui da quale parte Michael cantava di brutto Michael si ma poi cantava mentre ballava non era solo il ballo e il canto era il ballo e il canto ma poi unica parentesi legata alla alle serate che voglio fare forse unica magari mi vengono in mente altre ragazzi la tua tune al di là della oh perdoni scusami ho letto un commento se tu dici una roba come stop al genocidio bravo giusto però in una serata di musica perché non fai così il testo della canzone ci sono tre righe sulla guerra e sono molto generiche mentre stop al genocidio è molto specifico c'è la tua chance di parlare come artista minchia ce l'hai enorme amico mio hai tre minuti e tre ho detto la stessa cosa oggi in live un pochino più edge ovvero parla qualcosa della musica che deve fermare questo della musica che può essere un messaggio stop genocidio sergio stanchia nel 2011 va bene sergio minchia fa quello che deve fare un artista no bro lui messaggio nella musica ma poi lui un attivista fottuto di testa io non ne posso più di sentire ma quella voce era pure incazzata ci stava la voce vera ci stava ma poi lui era armeno cioè gli armeni li hanno sterminati c'aveva una rabbia dentro ma lui ancora canta malino è invecchiato ma com'è stile no è sempre proprio fa sempre cose per i film ah vero uno prima ha scritto senza autotune gali e indecenti secondo me non è neanche questo ma l'autotune deve essere anche uno stile ragazzi l'autotune i daft punk a volte anche i gorillats lo usano ma con una classe diventa proprio lo stile ma nel senso che non avete magari mai sentito queste cose qua perché nessuno va molto a sudes però se ci pensate quel robottino si sente qua è solo per aggiustare ed è tantissimo ti faccio un discorso un po' più tecnico gli effetti sulla voce sono effetti cioè io voglio che la mia voce suoni come un robot io voglio che la mia voce suoni come un geomag da quando è arrivato l'autotune scusami io sto parlando della traccia non di Sanremo da quando è arrivato l'autotune si ha fatto un uso di una cosa che prima non era effetto ma era una correzione come un effetto molto figo perché l'autotune è nato per corregge e non per effettare e poi qualcuno di molto artistico ha detto ma mi piace come suona cerco di tarlo come effetto un bacione marcolino mi dedichi un nome per un pappone cattivo stupratore di piccole indifese tailandesi il punto qual è è che adesso abbiamo una generazione di cantanti abituata a cantare con l'autotune che quindi di base non sa cantare quando uno di Daft Punk canta non gli serve correggere la voce gli serve darle gusto con un effetto quindi ci sta che usi un autotune o qualsiasi voglia di effetto un vocoder per esempio ma se tu impari a cantare con l'autotune arriva il momento in cui devi fare una performance vera non solo stoni ma ci sono anche le volte in cui non stoni perché entra l'autotune e si sente anche quello nel pezzo di Gali si sente anche la versione in studio cioè quel pezzo che ha stonato live nella versione in studio si sente che l'autotune sta lavorando per correggere non per effettare cioè tu corregge un errore di base non funziona così per esempio Da Supreme Da Supreme usa quasi solamente in modo artistico all'autotune perché di base sa cantare quindi lo usa come effetto e non come correzione si vedela penso che potremmo già adesso decidere dove va tra la B e le vederei anche una D perché è pretenziosa a me non è piaciuta per niente la sua non mi è piaciuta per niente Gali ecco qua si c'è hai sentito pure tu? no i demoni i demoni dannata per me erano d'accordo per me tu per te il più amato odiato di Sanremo vediamo che strano sembra che si siano messi un po' d'accordo soprattutto nel ritornello che è l'unico diverso per ora è tuta gold in un certo senso spammata tra l'altro una ritmica a parte che viene prima del reggaeton perché la musica latina tu che la balli nella vita è un ritmo che c'è ciao bellissimi buon viaggetto Marco grazie mille Giorgio Xp e Parchi peccato che nel festival della musica italiana dobbiamo importare la fondamentale di una musica che italiana non è buono quando come per Mahmood si crea etnicità e varietà brutto quando importiamo a cervello spento e con queste cose io ho odiato la quale c'è stato per fare degli indignati che lui doveva vince perché lei è la prima allora se doveva comparare la prima la noia è lui ragazzi cioè ma senza ombra di dubbio a voi che Napoletano vince lui il cazzo lui già è famoso il suo perché Giollier fortissimo però sta spaccando il culo quindi per forza vince lui sai perché si sono incazzati perché lei la vincitrice è la figlia di un cantante famoso che è morto italiano un certo Mango figlia si si Mango questo qua che è morto è lui questo qua figlia d'artista cosa? è lui? no quello è Dagen D'Amico perché ci dovrebbe essere Mango che è morto no Mango scemo Giuliette no che è fatta ora Giuliette è questo? si ho capito poi non ha perduto la faccia di uno che partisce va bene dal Nato? si dai mi piace c'è per la guerra finale ragazzi non mi ha coinvolto per niente per niente per niente ma a lei la blastano tutti i commenti non vale un cazzo non sai cantare a differenza di Giulia però non usa l'auto di un almeno vabbè click boom di Rose Villain allora Fanny se tu sali ti c'è delle parti se vuoi vedere quelle uguali veramente 92 ha lanciato 100 beats Fiorella in questa anzone qua c'è la parte in cui dove il primo ritornello se abbiamo un'idea prima di se abbiamo un'idea vedrai non finirà va su vedrai non finirà sotto 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 eccolo qua di remember Randy Marvel Jackson uguale wow e l'ho detto per lui anche alla fine fa l'ho sentito la roba quella è molto disco music è James Marvel Jackson bello è divertente non mi ha non mi ha non dirassi i capelli però se la se la mettono mentre sto facendo la spesa l'ascolto con piacere ok ok non in berlus ma io l'ho visto poi io mi sono visto Sanremo e lui quando è arrivato lui prima di lui sono state canzoni pallosissime ma quindi è stato ma pure adesso ha dato un tocco di freschezza eh no no minchia eh ha capito vai di alfa e poi li mettiamo tutti e tre in ma ne abbiamo saltato una no siamo in pari siamo in pari vai di alfa ma non è possibile mi è piaciuta un sacco intanto due minuti e trentasei fantastico tempo per una più corta è la più corta di un minuto sono tutte tre e mezzo mi è piaciuta molto fresca io direi di andare subito alla tier list visto che abbiamo click boom ma noi ogni tre eh abbiamo fatto click boom un ragazzo e una ragazza e vai ci stai bro ma siamo un multiplo di siamo a tre maledetto stronz no perché due l'abbiamo messo così eh i decolors ciccio dove sono sono loro i decolors sono vediamo come dire muove la freccia quello sotto quello sotto sì esatto gli ultimi questo qua i decolors cioè vai io la metterei su ascolta la ola io inizio a sentirmi con l'anno scorso mi sto ricordando quella sensazione tutte reggaeton tutte reggaeton nel nel ritornello tutte 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 no gliel'hanno detto di farle così gliel'hanno detto sgruppos ha donato due euro quella di alfa è run degli one republic no no non sei l'unico a dirlo amico diamanti grezzi questa è la classica che non verrà mai ricordata diamanti grezzi di clara mettiamola già adesso sul dannati e basta chi è clara? non so chi sia chi è clara ragazzi? per me questa è clara anche se sono due che poveri quelli aria occe scusa è la quarta allora loretana bertè la quarta questa è clara? no quella è big mama questa è clara ma è quella quarta? sì perché gli altri lo sono tutti che conosco quindi sì allora ragazzi quella S che è arrivata dopo i ricchi e poveri hanno diposi mille anni a testa ma questa canzone secondo me ha un potenziale amico l'anno scorso io e pinguts nella S abbiamo messo Anna Ox questa è l'anno scorso sì non mi ricordo che penso saliii scusa ma ma non mi ricordo un cazzo che non me la piace da me ricordo che era la migliore la migliore ma anche come composizione la scritta io penso molto che le canzoni che non rimangono in testa hanno un potenziale questa la posso ascoltare più volte ma non mi lascia niente cosa dovrebbe lasciarti secondo me se tu la canticchi già hai fatto tu la canticchi vuol dire che ha un potenziale questa qua ok sarà pure brava a scrivere però non mi viene niente a me è rimasta la voglia di ascoltarla cosa che mi ha dato solamente Angelina per ora ma Angelina la voglio riascoltare solamente per capire come mai è la prima questa per piacere la riascolterei per ora non sono totalmente d'accordo perché per me ci sono altri valori oltre all'orecchiabilità no ovviamente ovviamente tu che sei buon musicista ho sicuramente altri metodi però io boh ma è valido cioè chi è di questi ragazzi quello che dicevi il quarto questo la metterei sulla S vediamo che cazzano da dire ora sono curioso questo è rocchiabile però ci c'erano a tutti i torti non è quella che appena la sento so già ricantare sì il primo ritornello mi ha dato quasi un po' fastidio il fatto che fosse meno bello del verso si è ripreso tanto poi tante idee alla fine è finita diversa dalle altre ogni ogni transizione ogni parte era diversa da quella prima anche i ritornelli quando tornavano non erano mai uguali alla volta prima come arrivavano e come erano i fiati arrivano solo alla fine bello interessante come usa gli archi è molto bello inizia con quella composizione molto varia sì 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 sono abbastanza d'accordo i ragazzi sono molto d'accordo entra con quegli archi a 007 li ricita anche dopo bello bello continuerei con Diamanti Grezzi di Clara che prima no l'abbiamo sentita Diamanti Grezzi era quella merda Clara l'abbiamo messa giusto sì e che poveri avete sentito tutto continuo con la strana sensazione del sembrano altre canzoni questa sembrava altre cinque canzoni quella che cantavo qualcuno di voi ci è arrivato la stavo cercando T4 Runtel ha lanciato 100 beats ciao Marco è la prima volta che ti scrivo sembra che la qualità dei prodotti umani volti l'intrattenimento stia dimunendo o quantomeno stia finendo nel banale mentre quelle delle IA generative continua ad aumentare aumentare non sono d'accordo per niente Blade 96 ha lanciato 100 beats Marco fidati di me il mostro di Bersani tutto il piano vediamo Ortuolo ha lanciato 100 beats mi sto per addormentare sono serio sono ai compilation rock rock and roll qualissimo sesso allora abbiamo apnea dunno veramente muso dunun 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 allora l'intrattenimento è questa immagino no? sì rosa chemical secondo me carpe diem proprio al pari delle che poi Ma che cazzo dici? È comunque energetica Mario ci facciamo andare bene tutto Eh bro si Qui Dai meglio di questi Meglio di questi qua Apnea chi l'ha fatto? Chi l'ha fatto Apnea? Emma Emma I rama chi è Giccio? Questo? No Il penultimo Questo è quello che ha fatto Better Mistake Vero Questo è il rama Ma è uguale È uguale È preciso Il rama secondo me è pure lui Carpe Diem Forse è la migliore delle dannate Eppure Io tutto è D l'avevo messo Dov'è quella merda? Ma per te la metti su D sta vecchia Ma veramente Ma metti su D sta vecchia Va bene Chi è? Dov'è Apnea? Ragazzi Dov'è Emma? Possiamo non mettere Emma è quella là Ah è la bionda Questa Sì Va bene Continuiamo con la fantastica La rabbia non ti basta Big Mama Quella che è stata detta Dalla stessa notizia Dalla stessa notizia Come L'obesa Di me Come tu al talane Basta Basta Di musica Ti spari una cometa addosso Bastardo Pinguzzo se ne è uscito Musica d'acqua park Benissimo Prezzemolo di gatto Che palle Un fiore può nascere anche dalla scoria nucleare Di Resident Evil Code Veronica Ma ho bisogno di amore Allora La rabbia non basta Forse c'è una pausa Quanto siamo? 17 su? No siamo volati Siamo volati Su 30 No siamo stati bravi Siamo la vola metà Quindi Ursulus Urciuolo ha lanciato 100 beats Grazie E veramente l'oratorio Io non ce la faccio P U accento grave U accento grave U Questa di Rain Assolutamente D Ciccio sai chi è Rain? Il biondo Il biondo sì Lui No adesso è l'ultimo Questo Esatto E poi abbiamo due alt... No è tutto qui di Gazelle Che metterei sulla B Di questa canzone si può dire che È diverso da Eh sì sì Volevo ringraziare tutti gli abbonati Ci sono le barre raga Le barre Cazzo Come le grebe Come le grebe Enormis Bide Fichi Albi Dottor Mandolino Walter E ma vabbè Bizzarra Creatura Alf Alcfush Gio Giovanni Cri Zazza E Sir Goz Grazie a tutti Degli abbonamenti Delle bambine salvate Siamo a 269 Bambine salvate No 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 Non mi lasciare Amore mio Ti amo a fare la mia mano Amore mi ritorna Che palle Anche la neve Può fare il prese Oh mio dio Bella merda sta canzone Buon viaggio Marco Notte minore 3 270 Bimbe salvate Dalle grinfie dei cazzi Che vogliono stuprarle Capitano Lattuga Buonanotte anche a te Rimani o te ne stai andando Governo punk Dei Bnkroco 44 So come si pronuncia Vuoi sapere? Vai Bunker Tutto nella palle E No ma ce ne sono due Che parlano di serpi Di vive Di vive Questa è il governo punk E Anna La Pazza Loro d'Anna Bertè Strano eh Quindi abbiamo Il governo punk Fragili e fino a qui Fino a qui di Alessandro Amoroso Era Ah si quello da tagliarsi Le cazze di bene Fragili Ancora sento Il tuo rumore Dentro E siamo frati E ma vabbè Ha lanciato 100 bits Come lo immagini Un governo punk Eee A 6H Quindi Di 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 Wuhuuu Quindi Amoroso E Lei Si Di Quella di ascoltare I bunker chi sono? Loro? Sono questa boyband qui Qui sono i bunker I bunker Si si sono Dove li mettere E poi c'era I fragili Ah i fragili Il tre No bruttissima anche quella Sarà il biondo Il tre Il tre è questo ragazzi Il nome di ministri Per un governo Punk Priciola Oh bravo Il biondo Eee No era brutta pure questa No no terribile Tutta Come la nera Ragazzi Siamo E finalmente si gioca in casa Signore e signori Autodistruttivo Della SED Sta cosa qua Che si devono sanremare Cioè le loro canzoni Perché non hanno portato Il loro stile Perché si sono sanremati Che va bene Può anche far schifo a tutti Ma Io aspettavo qualcosa di diverso Proprio perché era la SED Si sono davvero sanremati E poi fate smettere Di cantare il tizio Avete capito tutti quale Ce n'è uno grande De più Cantare Ragazzi Hanno fatto le stesse canzoni Degli altri Con altri strumenti Forse gli stessi Con la distorsione Non è punk C'è zero punk Zero Peccato Mi aspettavo qualcosa No Di anche loro Noiosissimi Molto più punk Ma molto più punk Loretana Abert Ma la cosa più punk Uscita dagli ultimani Di Sanremo E E soldi di Mahmood Contro la convenzione L'unica cosa andata contro le convenzioni Gli ultimi anni E infatti ho dettato legge Perché ora tutti si ispirano Con la roba là Ma che punk Ma che punk ragazzi Ma che punk Avevo sentito cinque volte Mahmood In questa Ce ne siamo potuti Ultima canzone Il bridge Il bridge è un po' Per ora migliore Non so che Nella canzone qua Che il cantante ha detto Che deve chiamarsi Amaro in bocca Ha cambiato il T9 Dal cazzo del cotto Che t'amore T4 Runtel Ha lanciato 100 beats È più originale Il tuo pezzo fatto Con Mattia Pascal Lui l'hanno intervistato In una radio Sagi già S'ha donato due euro Perché santi francesi E poi canta solo una persona? Mi dai una risposta Marco? E poi perché canta in italiano E non in santo francese? Io sconvolto Festa della musica italiana E invitano quei culi Sporchi pieni Di sbrodola Dei francesi Bubi Bebo Capolavoro Del Il volo Masch Vabbè Io penso che vado Dai Io vado Andate a dondere Anche da Marius Tanto Ci vediamo fra due mesi Bro Minchia fra due mesi Vero Meno 20 chili quindi Certo Di più 148 Ciao ragazzoni Ciao brother Io vado a sed Sto nella sed I fan della sed sono belli Idioti No nel senso No nel senso Belli Forti Sì Che cazzo puoi dire? Te lo puoi dire Qual è? Qual è il Uno 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 Tre All right All right Thanks Thanks Dopo ti faccio un elenco Ti faccio un elenco poi Yeah Bye guys Hai preso il limone per le corona Sì ma è finito là È finito là Orciuolo ha lanciato 100 bits Ciao ciccio Mi raccomando in sti due mesi Prepara il fantasia migliore Che hai che lo facciamo Quando torna Marco Ciccio Sì l'ho sentito Il capolavoro del volo Il capolavoro del volo L'altro lato dell'ispanico Se non fai reggaeton Fai una roba un po' flamencosa Ehm Affascinante Molto ripetitiva Però Ho un debole per le donne vecchie Che cantano Io no Solo per Mina Gli darei una C Ti giuro Minchia Gli darei una C Lei darei una C Te la buono perché non c'erano barre Non c'era batteria trap Non c'era reggaeton Sono la carta senza inchiostro E il pennino ormai sciolto Sono il cazzo dentro il culo E anche il culo sopra il cazzo Sono la valanga Che ti uccide sotto la collina E sono anche il numero d'aiuto Alla centralina Mi prendi un po' per finimento Che trovo buono in C Lei no? Può essere solo lei Ok Mi serve una paura Ce ne mancano 5 Cazzo 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 Ringrazio Howl E parliamo di videogiochi Che si è arragato prima Grazie Francesco Fanculo Sto sistemando un attimo Poi che cazzo vuoi? Hai preso il clip per te Eh sì Sì Nasta grazie per l'abbonamento Eccoci qua Buonanotte belli Grazie per la compagnia Fai un buon viaggio Marcone Dai ce ne sentiamo Quando vado live Benissimo anche la cover Di tuta col di Dario Marco conosci Boy Pablo Te lo consiglio Sì Ripeto Shoutout a Igor Nella libreria Bravo Che pesantezza Che pesantezza Sono la vista di un gabbiano Oppure l'occhio di un brasiliano Sono il cazzo nella bocca Di quelli che dicono No all'ano Ai 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 Già 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 Porco dio sei canto Se non è Dargen insuperabile Aveva un senso Hai sentito la canzone Della mannoia La bestemmia? No Allora non stavate scherzando? Sono la strega in cima Orco dio sei canto Quant'è? Quant'è? Dicono che c'è una bestemmia Orgoglio sei canto Orgoglio sei canto Che stupido Che stupido Fa sempre ridere Minchia parli come se fosse un meme di un anno Fa sempre ridere Da una settimana Fa sempre ridere Sembra tantissimo Poi con quella voce La merita la bestemmia Va bene Va bene bro Gabriele Tacchino Sono Marco Sono obesino Mi faccio sempre un bel panino Faccio ridere i miei seguaci Per voi solo dolci abbracci Stragedi Capaci Ti muovi di Diodato Cosa ci fai Non so se è meglio l'anno scorso Tra la B e la A Ci sono altre sei microlettere Però si Sanremo non è musica La seconda ma è stata un parto Sì 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 Mamma mamma Come bonus Ho sentito la di Lazza Non ho voglia di nessun'altra musica Veramente nessun'altra Ho paura che anche se è bella La reputere in merda Oddio Grazie ragazzi Sì lo so L'ho letto Luca Però basta Ha fatto una canzone Non l'ha data ad Amadeus Doveva essere in gara Non è in gara È bello Va bene No veramente Troppo Troppo Lazza vale la pena Per dubbio ci capisco Tiriamo una moneta Da Marco per cosa paga un abbonamento Se non ascolti dai Oh coglione Ho ascoltato 30 canzoni di fila Per cosa paga l'abbonamento Dammi dai 5 L'ho fatto molto più Paga degli Dammi altri abbonamenti Ma poi infatti non sarà bella Non sarà bella Non sarà una bella canzone Sarà meglio di tutta la merda Vi consiglio solo la cover di Angelina Ha perso Ragazzi Niente cover A posto così Niente cover A posto così Che è successo al messaggio Si è l'incoglionito Messo in primo piano Da spadino Ma che cos'è Ma cosa sta succedendo C'è un baggone Can't take my eyes Off of you Para Para Che musica Che musica ascolti in generale Per capire la tua situazione attuale Sono l'unica persona al mondo Che dice che senti tutta la musica Lo fa veramente Le seconda è Marco Uguale Che dici a Volt Orco Oddio se canto Vincere Backcountry New Road Li risento quest'estate Dal vivo Seconda volta Spadino Si ci sta comunque L'unica posa da fare Alla fine di tutto questo E questo qua Ora adesso Adesso anche la canzone Dei Ferrero Rocher Sarà la migliore di tutte Se l'ho ascoltato Stai mettendo l'azza Sì Va beh Fai stare zitti Non mi interessa manco Metto il volume a zero Come si chiama Scrivetelo Avete 5 secondi Cento messaggi Nella tuta goal Questo qua Dove la metteresti Io su C Questa su C Meno male Meno male Ti ha ristit Salemo 1974 No ma c'è un bel pezzo Per farsi bannare Da questo canale Dire Le famose parole Cacca state of mind Mille volte meglio Un po' di Verdana Porco Dio se canto Ragazzi Piccolo discorsetto Previaggio Grazie a tutti Per questi mesi Ogni singola volta Che sparisco In realtà ci sono Ogni volta che ci sono In realtà voglio sparire Non so se mi spiego Io spero Che questo paradosso Finisca E vi giuro Che uno dei motivi Per cui sto andando là E anche per farlo finire Per Tornare da voi E cercare di rimanere Con la testa a posto Che Finalmente In questi anni Ho deciso Che no no L'ho ammesso E veramente mi sto Ciao Pinguz Ciao Marco Ciao Io faccio il pazzo Brucio Parigi per te Buon viaggio minore 3 E E E veramente mi sto Veramente prendendo cura di me Per la prima volta È difficile Soprattutto perché A una certa età Difficile abbandonare Certi concetti Ma Dobbiamo farlo tutti Vi voglio bene Sei sempre stati con me Abbiamo salvato Ben 274 Bambine Thailandesi Io tornerò da voi Farò dei video da là Ho montato già un pochino Un vloghino Da Messina E ne farò pure uno da là Vi farò vedere un po' di cose Sicuramente farò live anche da là Perciò Perciò un bacino Grazie a tutti Mi avete mandato un sacco di Messaggi belli anche su Instagram E qua me li state dando Fin dall'inizio Ogni ora di queste 10 ore Me le avete mandate Non sparisco Non sparisco Però Sicuramente mi prenderò Un po' di giorni Per Vivermi quel posto Vlog cosa sei Vogelita mo? Fottiti idiota Un bacio veramente a tutti ragazzi Vi voglio bene anch'io Noi ci vediamo veramente In tutte le fiere Soprattutto quelle del sud Quest'anno farò anche Un video Dove parlerò di tutte le fiere Dove sarò Quando sarò in Thailandia Mi aspetta un viaggio Di 12-13 ore domani Passeranno Ragazzi Non chiuderemo una canzone No A presto Mi mancate già Non riesco a spendere Non riesco a spendere Scherzo Bye